realizziamo un palio straordinario se no da qui a un anno non resisti no 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 ce la fate più mi fate male io forse mi ritiro si fa a Castiglione della Pescaia intorno alla capannina a Giù allora ragazzi fermi momento epico dopo il palio dopo che si sono tirati che lui gli ha tirato il casco e l'ha buttato giù ora fanno la pace a quest'altro anno che rifotografi si ma per quanto non c'è il bacio grazie grazie il bacio di Sustano il segno abbracci il bacio andiamo anche il Zubappo fece pace contro la Rada dai dagli un segnale poi dopo un mese fece il bacio sono stato un coglione io